Il tema della ventesima edizione è silenzio e parola. Apparentemente è molto difficile, ma basta soffermarsi un attimo e riflettere sull'importanza di questi due elementi, silenzio e parola. Dall'uno nasce l'altro. Ultimi giorni per partecipare al concorso di poesia promosso dal Teatro Fratello Sole a Busto Arsizio. Da vent'anni proponiamo questo concorso che si chiama Sole d'autunno proprio perché in autunno si semina e quindi noi speriamo di aver seminato e di continuare a seminare. È un concorso a tema, ogni anno proponiamo un tema che è vincolante in linea di massima per i ragazzi, quindi delle medie e gli adulti. È un libro invece per i bambini perché è già molto se riescono a partecipare su un argomento che loro vogliono scegliere. Arrivano anche di classi intere perché c'è la sezione per i bambini che è sempre molto partecipata e arrivano da tutta Italia. Il termine ultimo è il 18 marzo. La premiazione sarà presso il Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio il 25 maggio alle 4 del pomeriggio.